Nordica Bell DC 72 è lo sci dedicato alle sciatrici che cercano il divertimento in pista e vogliono tracciare curve perfette con un raggio di 13,7 metri e 72 mm al centro nella lunghezza di 162 cm. Costruzione double core con il nucleo in legno diviso in due da uno strato di gomma e uno strato di fibra di vetro sovrapposto. I sci hanno un profilo on piece rocker. Nordica propone per le donne Bell 162, uno sci molto leggero e divertente soprattutto su pendii abbastanza facili con nevi invernali o primaverili ma già diciamo nelle ore calde. Mi sono trovata bene su tutti e tre gli archi di curva, sicuramente su questi pendii facili appena aumenta un po' la pendenza ovviamente la struttura e la lunghezza quindi 162 non permettono di eseguire curve ad alta velocità. Quindi lo consiglio a sciatrici di un livello 5 che però amano divertirsi durante tutta la giornata. Un uscico trovate estremamente maneggevole, sembra di non averlo ai piedi, veramente leggerissimo. Questa leggerezza va un po' a discapito della stabilità su nevi molto dure e ad alta velocità. Quindi da consigliare a un pubblico femminile L4, massimo L5.